Buongiorno a tutti elettronauti e benvenuti in questo nuovo appuntamento delle news settimanali. Io sono Matteo Valenza e oggi vi aggiornerò di tutto quello accaduto nella settimana appena trascorsa. Parleremo di batterie, Cybertruck, Rivian, previsioni di costi del prossimo futuro, innovazioni tecnologiche, progetti in autostrada e tanta tanta altra roba. E cominciamo a parlare di Tesla perché le nuove Model S Plaid sono pronte per la consegna. Elon Musk infatti ha comunicato da Twitter proprio due giorni fa che si terrà un delivery event il 3 giugno in California. Speriamo che si terrà una live per l'occasione e in quel caso sapete già dove seguirla, ovviamente sul mio canale. Ma perché interessa tanto la nuova Model S, non solo per la sua potenza, per i tre motori o per l'autonomia che è veramente fantastica, ma anche per il suo software, che avrà un'interfaccia completamente diversa dall'attuale, alla quale saranno allineate anche tutte le altre Tesla. Quindi aspettatevi una comparison, ovviamente, sul mio canale. Ah, dimenticavo, c'è anche la questione volante, che non è più classico a forma circolare, ma a forma di cloche. Chissà se mai arriverà anche per Model 3. Ma... Parliamo per un attimo ancora di software. Vi ricordate qualche giorno fa che vi ho parlato di Autopilot? Ecco, Tesla sarebbe quasi pronta a rilasciare la nuova versione del software, completamente rinnovata e rivista. Stiamo parlando della versione 9 di Autopilot. È notizia di qualche giorno fa che, sempre su Twitter, Elon Musk ha annunciato che tutti gli appassionati potranno finalmente provare il nuovo sistema sviluppato da Tesla, che elimina l'ausilio del radar e fa affidamento solamente sulle telecamere e sul software. Se il radar fosse il punto debole della tecnologia, noi non lo sappiamo, ma dopo svariati tentativi e studi, gli ingegneri Tesla hanno affermato che è meglio ragionare solamente sulle immagini per agire come agirebbe una persona vera. Beh, sì, infatti una persona vera non ha un radar in testa. Tranne Batman, credo. Dunque, aspettatevi sicuramente un video delle due versioni. E non abbiamo ancora finito di parlare di Tesla, questa volta però parliamo di batterie. È notizia di qualche giorno fa, infatti, che l'unità automotive di Panasonic comincerà a testare la nuova linea di batterie Tesla, le 4680. Panasonic inizierà con una linea di produzione di prova in Giappone entro la fine dell'anno, che produrrà per l'appunto le celle 4680 per Tesla Motors. Vi ricordo che queste nuove celle includono un aumento di 5 volte la densità di energia, un aumento del 16% della portata e un miglioramento della potenza di 6 volte di quelle di oggi e costeranno anche il 14% in meno. Queste celle dovrebbero essere messe a bordo delle Tesla Model Y prodotte da Europa, delle Model S Plaid Plus, di Roadster 2.0, del SEMAI e del Cybertruck. Una bella sfida per Tesla. Staremo a vedere. E a proposito di Cybertruck, di cui non si sente parlare da un bel po', nei giorni scorsi, in occasione dell'intervista al sado del Night Live con Elon Musk, abbiamo potuto osservarlo ancora una volta sulle strade americane. E ragazzi, ma quanto assurdamente bello è Cybertruck! E già che siamo in tema pick-up, dopo l'ennesima apparizione del Cybertruck di Tesla, anche Rivian ha voluto far trapelare qualche informazione in più sulla sua creazione, il Rivian R1T. Per chi non lo sapesse, Rivian ha progettato un pick-up veramente interessante, forse il più interessante che vedremo in quest'anno. Dottato di 4 motori elettrici, con prestazioni da urlo, da 0 a 100 in circa 3 secondi, capace di trainare 5 tonnellate, con un'autonomia fino a 600 km in ciclo VLTP. E la madonna, quanta roba! Ma se volete un approfondimento, magari ragazzi, con un video dedicato sul canale, lasciatemi un super like qui sotto, così saprò cosa fare nei prossimi giorni. Continuiamo poi con Porsche, che ultimamente ha rivelato di essere al lavoro su una Macan completamente elettrica. È in sviluppo da circa due anni, e pochi giorni fa sono iniziati i test su strada. Porsche ha anche affermato che Macan EV avrà specifiche similari a Taycan, come architettura quindi 800V, carica a 270kW, e poi avrà due tagli di batterie, eccetera, eccetera. Ma, a differenza di Taycan, sarà basata su una nuova architettura chiamata Premium Platform Electric, sviluppata in collaborazione con Audi. Porsche, Audi, Volkswagen, Renault, Ford, Volvo, Tesla, tutti stanno credendo fermamente nell'elettrico. Ma come mai questa lenta crescita? Beh, secondo Bloomberg, il motivo di questa lenta crescita è il prezzo di accesso. Ma dai! Ma attorno al 2025-2027 i prezzi di accesso saranno uguali o minori delle stesse auto con motorizzazione termica. E sempre secondo Bloomberg, entro il 2035 non si vedranno più auto con motore endotermico. E se lo dice Bloomberg, ci crediamo. O no? Parliamo ora di asfalto e ricarica. Sì, avete capito bene, stiamo parlando della ricarica di induzione. Avete presente che i telefoni si ricaricano appoggiandosi su una piccola piattaforma? Perché le auto elettriche non possono farlo? E allora perché non lo fanno in movimento? Tre università italiane e 11 aziende, sempre italiane, sono pronte a cominciare i lavori sull'autostrada A35, la Brebemi. E sarà una rivoluzione assoluta. Se questa sperimentazione avrà successo, potrebbe rappresentare l'inizio del definitivo superamento del principale limite della trazione elettrica. Vale a dire l'insufficiente autonomia e l'ansia da ricarica. Il progetto prevede la costruzione di un anello d'asfalto di 1000 metri alimentato con una potenza elettrica di 1 megawatt, denominato Arena del Futuro. Sarà situato in un'area privata dell'autostrada A35, in prossimità dell'uscita Chiari Ovest. L'applicazione della tecnologia Dynamic Wireless Power Transfer riguardirà diverse gambe di veicoli elettrici in ambiente statico e dinamico. E adesso per un attimo passiamo dai veicoli su quattro ruote ad un motoscafo. Sì, perché un motoscafo non può essere elettrico? Parliamo di Candela 7, un bow rider di 7,7 metri costruito da una start-up di Stoccolma, chiaramente ispirata dalla filosofia Tesla di Elon Musk. Dietro al design vintage c'è una batteria da 40 kWh, quella della BMW i3 tra l'altro. E ad alimentare il fuori bordo troviamo un motore Torquedo Deep Blue 50R con una potenza di 80 CV. Ma soprattutto sotto la carena ci sono tre foil, sul modello di quelli piazzati sotto luna rossa nell'ultima Coppa America. Servono per tenere la barca appoggiata all'acqua dopo il becollo. Per la ricarica è sufficiente la presa elettrica di casa a 220V 16A e in 12 ore le batterie tornano a pieno potenziale. In questo caso Candela 7 può navigare per circa due ore a 25 nodi, ci si può spingere anche a 30 nodi, ma quello che più conta è l'autonomia dichiarata di 58 miglia nautiche, quindi 107 km. La mobilità elettrica ragazzi non ha proprio confini e pensate che abbiamo solo scalfito la punta dell'iceberg. Pensate a quante possibilità future ci aspettano. E nel futuro crede anche ABB, azienda specializzata nella costruzione di colonnine per la ricarica, che ha deciso di investire altri 30 milioni di dollari per un nuovo polo produttivo in provincia di Arezzo. Il nuovo sito produttivo, che surgerà a San Giovanni Val d'Arano, coprirà 16.000 m2 e produrrà l'intero portafoglio di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in corrente continua. Non solo quelli per l'uso domestico, ma anche quelli per l'installazione in aree pubbliche e quelli dedicati al trasporto pubblico urbano. Una buonissima notizia per l'elettrificazione in Italia e anche per i lavoratori italiani, perché chissà quanti nuovi posti di lavoro si creeranno grazie a questo nuovo impianto. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con una domanda. Che fine fanno le batterie esauste delle auto elettriche? Beh, vengono riciclate. Al momento la produzione di batterie aumenta del 25% all'anno in media e tra 10-15 anni la quantità da smaltire e riciclare sarà drammatica. E secondo il professor Paul Anderson dell'Università di Birmingham il problema è serio e pericoloso e nessuna soluzione efficace è stata ancora adottata su vasta scala dai produttori di auto elettriche. Oggigiorno è molto più facile riciclare le tradizionali batterie con piombo e acido che non le batterie a litio e ioni, alcune delle quali contengono anche elementi pericolosi e inquinanti dal cobalto al nickel al manganese. La procedura comunque esiste, ma attualmente non ci sono aziende in grado di ospitare una lavorazione di questo tipo in larga scala. Beh, forse non esistono appunto perché non ce n'è bisogno, ma direi di affrontare questo argomento con un video dedicato. Voi che ne dite? Come sempre ragazzi, grazie per aver guardato questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina e perché no, date un'occhiata anche allo sponsor di oggi, NordVPN. Ciao a tutti, alla prossima!